Il progetto Vegan OK Change è un'opportunità unica per tutti noi, di essere protagonisti del cambiamento e di contribuire a un futuro più sostenibile e compassionevole. Ecco perché è così importante lavorare su noi stessi senza delegare agli altri questa responsabilità. Quando scegliamo di adottare uno stile di vita vegano stiamo facendo molto di più che cambiare solo il nostro modo di mangiare. In quel preciso momento stiamo prendendo una posizione per gli animali, per l'ambiente e per la nostra salute. Ogni scelta che facciamo ha un impatto e aderendo al progetto Vegan OK Change possiamo unire le nostre forze e amplificare questo effetto positivo. Ogni singola azione conta e insieme possiamo raggiungere grandi risultati. Sii parte anche tu di questo movimento, aderisci al progetto e diventa anche tu il protagonista di questo cambiamento. Ciò che mi motiva di più è la possibilità di ispirare e influenzare altre persone a fare scelte più consapevoli e sostenibili. Ogni volta che ricevo messaggi di persone che mi dicono quanto sia stata utile una mia ricetta o un mio consiglio mi rendo conto davvero che sto contribuendo a un cambiamento reale nella vita degli altri. Un altro aspetto che mi motiva molto è l'opportunità di educare le persone su valori importanti come l'etica alimentare, la salute e l'ambiente. Vedere la consapevolezza crescere e osservare le persone che fanno scelte più informate mi dà veramente la spinta per continuare il mio lavoro. Il consiglio che darei è di non cercare immediatamente la perfezione. Può essere utile iniziare a sostituire alimenti di origine animale con sostituti vegetali ad esempio provare il latte di soia o di avena la mattina nel cappuccino oppure sperimentando nuove ricette vegane per piatti della tradizione che si sanno cucinare già molto bene creando quindi un'alternativa vegetale ed appagante. Affiancare questi piccoli gesti ad informazioni riguardanti l'etica, le ragioni ambientali e della nostra salute è alla base del veganismo e della sostenibilità. Questo aiuterà a trovare la motivazione per continuare questo percorso e fare scelte più consapevoli. Infine altro consiglio cercare di connettersi con quante più persone possibili che condividono gli stessi obiettivi. Oggi attraverso i social media, gruppi online o incontri locali è veramente possibile usufruire di supporto e ispirazione per il viaggio verso uno stile di vita più sostenibile.